Vincenzo Nicastro, commissario straordinario di Piaggia Aeroindustria Spa e Piaggia Aviation Spa, ha reso noto di aver prorogato alle 18 del 4 maggio il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'acquisto dei complessi aziendali gestiti dalle due società, entrambe in amministrazione straordinaria. La decisione, scrive nell'annuncio Nicastro, è stata presa in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 attualmente in corso. La data ultima per l'invio delle manifestazioni era stata originariamente fissata al 3 aprile. Piaggia Aeroindustria e Piaggia Aviation operano sotto il marchio di Piaggia Aerospace. Il gruppo che controlla negli Stati Uniti è anche la consociata Piaggia America e attivo nei settori dei veivoli e dei motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di veivoli civili e militari e comprende le attività anche di customer service. Il business motori è invece dedicato alla costruzione e manutenzione di motori aeronautici.